eh guarda se dove deve nascondere l'osso dentro il velle adesso è via Alla sua via Oh adesso alla destra, destra, destra Dove è destra? Cheat Ma va, con il culo Oh no, no Lo so, devo venire giù con le scale Non con le scale, ti butti giù, però usi il secondo pezzo di muro, quello prima delle scale Mentre ti butti giù lo costruisco La vera, l'avevo visto anche io Morto subito, va? Sì No, cazzo, va Zero Hai lanciato, alzi, te? No, vero, era la prima Oh, facciamo già l'agobal, che tanto è di là Ah no No, vero Eeeh, va Cazzo, no, anch'io lo sai C'ho due armi Non ce la fate nunca Ma proprio due Eh dai, me la Vaffanculo Eh dai, Dio bo C'è il tuo osso, perché sei andato a nasconderlo? Oh Ale, che cazzo fai? Sto mangiando Sto mangiando Eccomi Aspettami, va Se mi arrivo andato dietro mi inculano Ok Il memico abbiamo trovato un team dove c'era il memico che stava fare tipo così Davanti a Gostiano Gostiano gli ha dato le belle C'era il suo compagno che aveva dato le tese al mio compagno di scuola ma l'ho coppato E' arrivato l'auto facendo così PAM PAM in bocca L'ho coppato anche lui Ma tra dieci ore finisse la prima versione, dopo c'era anche l'aggiornamento Sì, di 10 giga Sì O è quello che dicevi te Sandro? No no Quanti giga è quello lì? 9,900 qualcosa Allora eccolo lì Ah, allora 10 ore mi ci vogliono Sì, dicevo che cazzo Qui mi dimentica forse con il salto E' un po' 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 È un po' Non ho armi cazzo Non ho armi cazzo con il pistolone su allen e giorni ma ci sono delle scala di a sinistra non abbiamo armi va non la vinceremo mai questa o stazietta vieni giù e vieni da qua dove sono io mostrati non 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 sono degli stiani su 195 su 210 su montagna va ce ne sono un bel po' tipo quattro che combattono tra loro ah io li ho visti li ho visti eh ce ne sono due anche là in fondo e io non ho armi va da distanza passi là ciao no senti no passano da qua ci danno lo scaracca adesso passano da qua ci danno lo scaracca no non è possibile sono di safe sono e anche di qua vabbè oh non fare costruzione a quando ci vuoimer Cammini di calma no ma non fare casino adesso ma non fare casino adesso ma no occhio su alto si no c'è due a tale adesso lo sparando raggiù ucciso a posto posto che stai dentro stai dentro adesso andate voi no vanno andare 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 probabilmente non andare andare va perché vai perché adesso è andato la perché sono loro che devono venire da voi buttati giù gli visti le visti le visti destra a testa verso dove l'estaggio della montagna quella giuda montagna l'è risparano via quante cavate avevano non so fatto stare che non avevamo armi noi dove passavano le guardate non lo so c'è anche lo scarto arrivo così finito ma anche hanno 23 stiane basta quanto ci metti quanto ci metti 5 minuti no non ce l'avevo in testa andrò bene mamma quanto ci metti 5 minuti guarda prendere le casse oh Ale ci dobbiamo andare ad allenamento stasera si non c'è voglia Robby va bene non c'hai voglia te Robby vero? non tanta però beh non ci danno i soldi se no ci fa come lavoro lui cazzo vabbè Tommaso è tornato insieme alla Sar a Serena si un po' la cammeta mi stiamo aspettando sempre mancano i giovani cristiani Dio però mi consiglio provo a tentare provo mi consiglio di prendere l'auto i 6 chiavi o 10 chiavi l'auto 6 chiavi 10 chiavi e questo è il problema perché se prendo 10 chiavi ne do 2 ne do 2 per un'auto uh che c'è il bucione lì eeeh 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 cioè va bene anche questa va bene anche questa va bene col bidone eeeh 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 E poi quello è il veleno, e poi il veleno, prendi anche il veleno. Ragazzi, ma se uno dice ace, l'altro dice? Se uno dice ace, l'altro cosa dice? Uno non mi piace. Bravo! Dopo, Sandro, se uno dice stasera, l'altro risponde con... Sai che devono, sta venendo le risposte. Sandro, perché? Sì o po', Sandro non sa un cazzo, non sa. Devo metterla qui, e questo te lo capo un secondo. Va bene, va bene, fuori lì va bene. Lì però avevamo detto nel mezzo, sai, di mettere... Con lo spinazzo mi aveva detto Giuliano, per il cellulare. Prego che non puro. Ah, la porta USB? Se la porta, allora va bene, lo stesso. Mi sa che non è arrivato. È lo stesso. Forse è smagliata. Beh, eccola qui. Con quant'è che ti viene, Sandro? Con quanti soldi ti viene il VR? 200 euro. Dai che ne mancano 4. 200 euro. Questa è la promozione. Eh, se bella Comet è entro oggi. 65 euro. Il gioco è il VR quello patocco. È bello il VR quello patocco. È uguale a quello originale, ma è solo che non è quello originale PlayStation. Non è tutto tipo. E se lo vado a prendere oggi? Dopo la metti anche lì, perché devi staccare lo spinottino di E. Sì, la metti ovunque. E tutto danno. 3, cioè tu e altri 3, che siete in 4? Sì, sì, io ho altri 3. Mi sta venendo in mente una strana idea. Viene su con una sportina che svuotiamo il bidoncino. Pieno. Pieno. Il salvavimento in casa ti devo mettere. Non ti salta più. No, è pieno. No, è pieno. No, è pieno. Di tutte le notte. No, è pieno di esterno, sai. Puoi cercare con l'immunità, perché no, c'è l'immunità, perché no, c'è l'immunità che vanno. Quindi 80 euro più virtual ti danno. Quanta vita è così più facile da intuire? 80 euro più virtual. 65 e ti danno il virtual. E il coso? Se muoio adesso... L'incazzo. Oh, fai un urlo se muovi. Fai un urlo a manetta se muovi. Che buono. Che buono, ma... Che si muoio adesso è finita. Sì, ma se muovi, fai un urlo a manetta. Dove vedi i viali laggiù a sinistra, Roby? L'altezza ginocchio. Ciò, ta' là. Dietro la casina. Non c'è più, non c'è. Compare là dietro, compare. Attraversa là dietro, dove sto? Che albasterde. Vi hai, ciò, ta' là. Oh, ne ho ucciso uno. Dove è quell'altro? Sandro adesso muori. E' rimasto in due. Io e l'altro. Ma sai se muore che urlo che fa? Ah, dentro la save ci sono. E l'altro è dentro la save. Beh, è piccolissimo. Ma sai se muore andando fuori dalla save lo stiano, quello là? E' la vittoria più brutta che si possa fare. Più bella, più easy. Via, dove cazzo devo andare adesso? Sì, ho vinto! Oh, sì! Sì! Come è fatto a vincere? Oh, se vedi il video ti smudelli da ridere, ma è alto che bello. C'è l'aviale che l'ha passata la save. Oddio! Penso di aver fatto il video, penso, spero, dai. Ma sai, non l'ho fatto di un cazzo, ma niente. Come è morto il tipo? L'hai ammazzato te o è morto quello sì? Puce la pompa, puce la pompa, boom, boom, e boom, è morto. Benissimo, bella. Anche io sono arrivato primo da solo. Visto, Robby? Visto, visto. Buongiorno. 0